bello ragazzi sono BeWolfs e siamo tornati a giocare ad hockey su rocket rig facciamo subito questo piletto ci prendiamo questo ci prendiamo questo tubo stavo dicendo il nostro compagno fa un liscio che non c'è garbato minimamente attenzione qui ancora buona per loro invece no ne scavalchiamo due addirittura questa può essere interessante come azione ma ha fatto buona guardia il terzo il terzo ha fatto buona guardia c'è poco da stare a raccontarsela ci capisco via mi importa perché sta per arrivare un pallone bruttissimo che danza sulla linea ma non entra ma non entra continua tu compagno è iniziato ad andare in due sullo stesso disco occhio porca miseria porca miseria questa palla scusi chi ha fatto palo chi ha fatto palo e compagna la porta è di là però e te lo devo dire pure a te lo devo ripetere a tutti un peccato l'avevo superato quello siamo esplosimare però palla l'abbiamo presa e diciamo soddisfatti così nell'occhio è sempre un rischio andare al dritto per dritto guardate sta palla perché si rischia la digliazione di quelle brutte poco facciamo fatti bene con le banane tutta qua mica l'ho visto i compagni sapete non avevo più visto attenzione no no di là bravo finiamoci di turbo occhio e tu vieni superato ma noi ne superiamo due numero qui numero vai 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 che peccato tu sei messo molto meglio mamma che liscio che liscio brutto no il turbo di retromarcia lo scordi proprio eh che peccato che peccato potrebbe essere una bella occasione e invece ottimo meno ottimo peccato volevamo fare una cosa bella ci è riuscita solo a metà ci è riuscita solo a metà volevamo scavare carne diversi eh ragazzoni che diretto che diretto signori un cazzettino 1 a 0 si riprende bella gente per questo nostro bellissimo colore eh qua abbiamo provato una cosa speravamo essere seguiti dal compagno dietro ooooh ragazzi subito ripresi subito ripresi subito ripresi subito che è successo eh ha fatto un bel passaggio era davvero complicato per il portiere pararla nessun problema nessun problema però la gioia del gol ci dura veramente poco ci si strozza in gola l'urlo del gol lo prendi si che lo prendi continua 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 che è buona eh siamo saltati tutti allo stesso modo cioè male cioè malissimo allora io direi che tu te ne vai da questa parte non posso prendere il turbo perchè è più importante allontanare il disco ragazzi non litigate per voi eh ok ecco il turbo so se possiamo permettere oh questa parla va dove ci piace va dove ci piace la para al volo la para al volo vacca boia che parata che ha fatto che parata che ha fatto ma l'avete vista? una parata iiii no dai ragazzi ma dai ma guarda tanto è ingiusto il calcio ho sbagliato ho subito guardate qua lui ha fatto una parata una parata noi ce l'avevamo quasi riusciti e il nostro compagno la rimette dentro quanto è ingiusto da uno c'è da rimboccarsi le maniche qui non va nessuno andiamo noi la proseguiamo anche noi l'azione uuuh attenzione vai ragazzo hai topisci eh decisamente non ha colpito questo salto qui non c'è garbato proprio occhio 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 che siamo ah volevamo farlo esplodere lo ammettiamo stavamo per fare una cazzata andando incontro al nostro stesso compagno uuuuh al centro vai così vai così eh aveva abbastanza turbo per allontanarla bene e però questa pallina che gli raccontiamo a questa pallina? bel passaggio e di 2 a 2 ottimo ok guardate la guardate la che pallina che ci ha dato alè ragazzi mancano 58 secondi vediamo di riuscire a restituirgli subito iiii buona presta subito subito un altro gol perché qui l'intenzione è quella di digerla eh bravo bravissimo oh che peccato e qua ci segnano questo è un contropiede da gol proprio ma guardate 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 che fastidio in 16 secondi guarda come è spuntato bene non ha dovuto neanche ritoccarlo quel disco l'ha fatto ma non gli serviva finiva a pallo gol 42 secondi per rimontare dagli 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 che si può tutto è possibile tutto è possibile in questo sport la ritocco per evitare eh vabbè per evitare di fargli giocare alla palla comoda comoda uh grazie grazie che bel tiro davvero che bel tiro noi abbiamo sbagliato completamente il salto questo lo sono fatto loro va bel passaggio e bel tiro tre a tre ragazzi partita emozionante partita emozionante devo dire eh ci riusciamo a fare la nostra per favore questa partita che non è vero che ce lo meritiamo ma che brutto liscio nooo come ci ha scavaccato male dobbiamo ancora prendere bene le misure per quanto riguarda i diciamo i imbalzi e quant'altro eh oh vai così non andare così non andare così mamma mia allontanata ok recupero ragazzi tempi supplementari ci siamoci qui si decide tutto qui si fa la storia qui si fa la storia eh allora alziamo così ragazzi ragazzi danzava sulla linea danzava sulla linea questa palla allora io poi direi che faccio così e no non filtra poi avreste voluto e invece ci rifiliamo di turbo io dico di si facciamo che scavalchiamo tutte e tutti purtroppo sono ben preparati ne riscavalchiamo un paio non il terzo però ci siamo eh ci siamo attenzione questa è brutta questa è brutta la rimandiamo indietro e che palla indietro ragazzi è ottima questa qua eh di nuovo al centro uh vedete dove era schizzata ma i compagni dove diavolo sono e almeno in due dovremmo attaccare no vai così vai così vai sull'altra vai sull'altra che ci siamo ho risciato il passaggio decisivo e lì invece no lì invece no attenzione uh ha attraversato tutta la linea attenzione uh guardate che rimbalzo brutto che rimbalzo brutto oh che è sto tiretto che è sto tiraccio uh bella questa invece questa invece è proprio bella questa è proprio bellina perché se la controlla male e la controlla male ah è che si stanno litigando tantissimo stanno litigando su quel disco no 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 guardate che no non è possibile ma non è possibile ma non è possibile ragazzi guardate che razza di tocco guardate che razza di tocco ed è entrato ed è entrato porco demonio quanto è imprevedibile ok ragazzoli ci becchiamo sta sconfitta non mi interessa niente è stato comunque un bel match è stato un bel incontro e devo dire che ci è piaciuto dai ci è piaciuto abbastanza io spero che questo video vi sia piaciuto anche a voi se vi sia lasciato un like commentate e condividete ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno vi ricordo questo video è anche su twitch da lunedì a venerdì alle 21.30 grazie e alla prossima ciao ciao